Per quanto riguarda l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza, l'unità di facciata che i membri della Nato cercavano di mostrare si stava sgretolando. Ascoltate cosa dicevano, i media hanno rivelato dettagli dei disaccordi tra i membri. Alleanza circa l'entità, la durata del finanziamento all'Ucraina e il processo della sua adesione alla Nato. Alla vigilia del vertice, 60 autorevoli studiosi americani e politologi hanno fatto un appello pubblico, non so neanche a chi, forse a se stessi, esortando i paesi della Nato, la Nato come alleanza guidata da Washington, di non avvicinare Kiev all'adesione al blocco. Ecco, come ho già detto, qualcosa al vertice del giubileo è andato storto e tutta quella benevolenza e serenità pianificata non c'è stata. Allora cosa è successo alla fine? Alla fine al regime di Kiev è stata promessa una strada irreversibile verso l'alleanza. Io onestamente non so cosa sia questa strada irreversibile verso l'alleanza. Mi sembra che l'unica associazione che viene in mente sia una strada verso un precipizio. Ora loro sembra, per addolcire un po' o almeno chiarire meglio il significato di ciò di cui parlano, chiamano questa strada irreversibile verso l'alleanza con un nuovo termine. A quanto pare è un ponte verso l'alleanza. In realtà la misura di questo ponte non è ancora chiara. Ma d'accordo, svelerò un segreto militare al regime di Kiev. È davvero un ponte verso la Nato, solo che è un ponte levatoio da tutti i punti di vista. Sollevato da ogni angolazione che in qualsiasi momento, quando sarà conveniente per gli occidentali, questo ponte sarà sollevato. E quando sarà conveniente ancora una volta per l'Occidente e nessuno chiederà né il regime di Kiev né i cittadini dell'Ucraina, lo riuniranno di nuovo e così sarà continuamente. Ma c'è anche un significato simbolico. Davvero, questo ponte per l'Ucraina è un ponte levatoio verso la Nato, perché ingannano i cittadini ucraini. È triste, è offensivo, ma bisogna ammetterlo.